Presentato a Chieti in concomitanza con la giornata internazionale della danza, il calendario del Maggio Teatino. Antonio Viola, Assessore Manifestazioni, Cultura e Sport del Comune di Chieti. Voglio ringraziare tutte le associazioni culturali della città che hanno dato la propria disponibilità, nonché le scuole, le associazioni sportive, veramente tutti si sono attivati per rendere ricco questo Maggio Teatino. Iniziamo oggi, celebrando la giornata internazionale della danza, per passare poi al domenica 30 aprile con la giornata internazionale del jazz. Poi abbiamo il primo maggio, la festa del maio, abbiamo la festa del primo maggio giù a Chieti Scalo e poi chiaramente i momenti più importanti sono le feste del Santo Patrono, 10 e 11 di maggio. Quest'anno è impreziosita anche la domenica, 14 maggio, con il Giro d'Italia. Paola Di Renzo, dirigente scolastico del Giambattista Vico di Chieti. Quest'anno tocca a voi ad inaugurare il Maggio Teatino. Noi siamo davvero onorati di aprire come scuola, come convitto nazionale Giambattista Vico, sede del Liceo Coreutico di Chieti, il calendario del Maggio Teatino e anche di concluderlo. Il nostro Liceo Coreutico ha voluto dedicare questa giornata aprendo gli spazi della scuola al territorio e creando un forte sodalizio con tutte le scuole di danza presenti sul territorio. Chieti ha una lunga tradizione storica in termini di scuole di danza private.